Un'ordinanza di custodia cautelare messa dal GP di Catanzaro su richiesta della DDA è stata seguita alla Guardia di Finanza nei confronti di 24 persone presunti esponenti alla cosca di Andrangheta, degli Annazzo e la Mezzia Terme e di pubblici amministratori. Sul banco gli imputati presunti in tre cifra Andrangheta, politica e mondo e la sanità delle 24 persone raggiunte dal provvedimento restrittivo, 12 erano già in carcere per le restanti. Sono stati disposti gli arresti domiciliari, fra loro anche Giuseppe Galati, ex parlamentare, eletto prima con l'Udc e poi passato con Forza Italia e successivamente con Ala. Alle ultime elezioni politiche del marzo scorso Galati si era candidato al Senato con la lista a noi con l'Italia ma non era stato eletto. Coinvolto anche l'ex consigliere comunale della Mezzia Luigi Muracca e Giuseppe Perri, ex direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.